Alessandra, che cos'è Special Olympics? Special Olympics è un'organizzazione internazionale che attraverso lo sport mira ad una completa integrazione delle persone con disabilità intellettiva all'interno della nostra società. Che cosa sono i giochi nazionali estivi? I giochi nazionali sono un momento di confronto e di verifica per gli atleti che si allenano durante tutto l'anno partecipano ad eventi locali e regionali per poi arrivare a partecipare ai giochi nazionali è un momento di verifica perché si incontrano con i loro compagni che fanno il loro stesso sport in tutta Italia.